buongiorno a tutti e benvenuti sul canale sto portando il nostro ducato camper a fare finalmente l'installazione dei pannelli fotovoltaici per avere l'energia elettrica in libera ed essere sempre più autonomi e staccati dalla corrente continua e dalla dalla vita diciamo più terrestre cioè non che non sia terrestre da una vita un pochino diciamo più libera e quindi ci stiamo recando all'officina che è molto vicina al nostro paese da antonio il nostro carissimo amico di tempo libero lui si occupa non soltanto della vendita e del noleggio dei camper ma fa anche le installazioni e vende anche tutti gli accessori che comunque tutto quello che ruota intorno al mondo camper e van quindi andiamo lì con l'intenzione appunto di installare due pannelli della nds monocristallini ho fatto più o meno un'idea di massima di dove verranno installati quindi ho fatto la foto con il drone del tetto visto più o meno le dimensioni e dove poterli sistemare per non dare un fastidio agli oblò e installeremo il regolatore di carica mptt sempre della nds e la centralina di controllo touch per controllare appunto lo stato di carica delle batterie attualmente ho una batteria qui nel sedile lato guidatore e vorrei installare un'altra batteria aggiuntiva quindi secondaria sempre della nds agm 100 ampere quindi quando diciamo l'impianto sarà alla fine costituito formato da due pannelli mono due batterie due pannelli mono da 100 watt due batterie da 100 ampere il regolatore di carica il pannellino per poter controllare appunto lo stato di carica e abbiamo pensato anche di mettere uno stack batterie così per sicurezza oggi abbiamo una bellissima giornata di tramontana e sole si sta veramente molto bene prima ho avuto modo di contattare indiel b per ordinare il frigo a compressore penso prendi ho preordinato l'85 litri che dovrà arrivare fra circa un mesetto quindi è un nuovo frigorifero da 85 litri a compressore 12 volt quindi andrò a togliere comunque ad eliminare il vecchio frigo trivalente che si collegava appunto al gas all'energia elettrica quindi a 220 volt ea 12 volt soltanto durante la marcia quindi con il 12 volt a compressore possiamo collegarlo diciamo a tenerlo sempre collegato eccoci qua arrivati da antonio penso che dovrò entrare dall'altra parte perché da qui vedo parcheggiati due bei camperozzi abbastanza grandi quindi sicuramente mi farà entrare dal lato garage portiamo il van nel garage vediamo dove poterlo sistemare non so ancora dove parcheggiare non vedo antonio di nocchio di nocchio Grazie a tutti. 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 È stata come se non ci fosse un domani. Oggi è festa. Oggi siamo vivi. Domani non lo sappiamo. Quindi mangiamo oggi. Così, così muori sicuro. Muoriamo sicuramente senza la fame, senza la fame, senza paura. Siamo in mezzo, siamo in mezzo, siamo in mezzo al nulla, siamo in mezzo al nulla, a pochi passi dalla spiaggia, purtroppo non si vede nulla. Qui c'è la scuola. Qui c'è la macchina, vi è la scuola. E' la scuola. In mezzo alla scuola. scratch e steppaglie e la natura con la sua lucetta vi lasciamo il link per comprarla in descrizione la nuova con il Sì, ma poi misure principali, cioè l'altro giorno sentiamo a 47 gradi, non scherzo. Sì, 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 sì. Continua per 3 km. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.